Prima o poi i tronisti crollano in lacrime perché non è un programma facile, uomini e donne, bisogna avere a che fare con le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, a volte, e poi con le dinamiche trite e ritrite con i corteggiatori e corteggiatrici. Francesca si è messa a piangere raccontando il suo disagio e la sua ansia nel conoscere persone nuove e ha invitato tutti a farla divertire senza compatirla come se fosse malata e uno dei suoi ragazzi ci è riuscito. Oggi, però, a uomini e donne Martina è crollata in lacrime. Ho belle sensazioni, ma mi deludi. Io sono seduta qua e voglio far cambiare idea alle persone. Ho 26 anni. Prima o poi crollo pure io. Quando apro il telefono e leggo quelle cose. Sono forte e tutto ma io non sono la persona che descrivono. Tutto questo l'ha detto mentre rimproverava a Ciro di essere troppo attaccato al contesto televisivo e molto meno a lei come persona. Maria De Filippi. Ti avevo detto che avresti fatto fatica, Maria De Filippi Tina le ha fatto una richiesta insolita ha voluto informarsi su Martina dopo aver visto l'esterna con Gianmarco chiedendo se sui social le scrivono davvero così tante cose brutte e se pensa che le persone credevano veramente a ciò che dicono o se invece lo fanno senza pensarci troppo. A volte si scrive in maniera superficiale, ha aggiunto lei, non sapendo quanto si finisce per ferire. E comunque ne avevano già parlato di quanta fatica Martina avrebbe fatto dato che usciva da un programma molto seguito come Temptation Island dove la sua storia con Raul è naufragata. Uomini e donne. Martina. Non ho mai tradito, non ho mai tradito, ha affermato con sicurezza la tronista Martina al centro dello studio di Uomini e Donne. Ha poi citato i genitori che le hanno trasmesso certi valori stando insieme da 25 anni. Lei cerca quello, un amore fedele e duraturo, e soprattutto un uomo che le dia la libertà che tutti meritano, ponendo l'accetto su una cosa molto semplice, non bisogna far passare la libertà come l'essere libertina. Insomma, con Raul è arrivata a Temptation Island con dei problemi che poi alla fine purtroppo non hanno superato. Ora lei vuole ricominciare alla corte di Maria De Filippi con la speranza di poter trovare un uomo con cui costruire una bella storia d'amore che duri nel tempo.